Un'acqua buona, ecologica, economica, comoda e controllata. Cinque buoni motivi per bere l'acqua dei nostri rubinetti. Ne è convinta Marche Multiservizi che oggi ha presentato In Buone Acque. Il report annuale riferito al 2020 di un servizio idrico che continua a crescere in qualità. Perché è economica, perché costa molto meno delle acque minerali e quindi ogni famiglia può risparmiare oltre 400 euro all'anno bevendo l'acqua del rubinetto. Fa bene all'ambiente perché evitiamo di portare e inquinare attraverso il trasporto delle acque minerali e quindi poi anche il recupero delle bottiglie di plastica e di vetro. È sicura perché facciamo oltre 100.000 analisi all'anno, quindi circa 280 analisi al giorno. E' sicuramente comoda perché ce la troviamo nel rubinetto di casa, anziché dover andare ai supermercati e portarsela a casa. Quindi bere dell'acqua del rubinetto fa bene sia dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico per le famiglie, per i cittadini e anche per le imprese. E dunque ci sono 277.000 cittadini di 47 comuni serviti da Marche Multiservizi che hanno ottimi motivi per bere acqua dal rubinetto. Lo ha già capito il 38% dei clienti che la beve evitando la circolazione di 21 milioni di bottiglie di plastica e risparmiando 460 euro annui. Evitiamo il trasporto delle acque imbottigliate, evitiamo i rifiuti di plastica delle bottiglie. Su questa linea, anni fa, insieme ai sindaci del territorio, sono state individuate anche delle casette dell'acqua distribuite all'interno della nostra provincia, proprio per dare questo tipo di risposte. Innalzare la qualità dell'acqua e avere una percezione rispetto alla risorsa idrica un pochino più elevata all'interno del nostro territorio. L'acqua del nostro territorio è un'acqua veramente di qualità e quello che stiamo mettendo in campo insieme alle amministrazioni e all'autorità di ambito è quella di innalzare ancora di più il livello dell'acqua, la qualità dell'acqua mettendo a sistema anche delle interconnessioni attraverso le intervallive delle aree interne. Questo proprio per non sprecare nessun litro di acqua. Ed è una qualità crescente che corre di pari passo ai crescenti investimenti in termini di depurazione. Abbiamo praticamente completato i lavori dell'inflazione comunitaria di Pesaro e di Rubino. Pesaro oggi è depurato al 98%, faremo l'inaugurazione prossimamente del nuovo depuratore di Borgeria e stiamo procedendo sul Foglia con il raddoppio del depuratore di Montecchio e abbiamo in progetto l'Alta Valle del Foglia con il depuratore di Ischietti e il collettamento di circa 50 chilometri di fognatura che consentirà di razionalizzare ben 13-14 piccoli depuratori che ormai sono obsoleti. Sull'Alta Valle del Metauro abbiamo effettuato tutta una serie di ammodernamenti e potenziamenti degli depuratori, cominciando da Urbagna, Fermignano. Oggi stiamo lavorando su a San Costanzo e coglie il Metauro. Stanno avviando i lavori anche in questo comune per potenziare e raddoppiare il depuratore.